Musica Cosa ne pensa dell'immigrazione? Ah, sti negri che arrivano con i barconi, ma che se ne torino a casa loro? Quel negro che chiede le nimosine a quel supermercato davanti a casa mia, che vado a lavorare! E poi sono ignoranti, nemmeno sanno l'italiano! Mi chiamo Mohamed, sono arrivato in un barcone, parlo quattro lingue, chiedo le nimosine e sogno di diventare un medico. E nel corso di italiano per stranieri ho imparato il condizionale. È la diversità che ci rende unici! Salta lo stereotipo e indossa le storie dell'altro! E stiletto da qui! E stiletto da qui! E stiletto da qui!